Bene, grazie. E tu? Mi senti bene? Tutto bene? Sì, sì, tutto ok. Perfetto. Allora iniziamo subito parlando del tuo nuovo singolo, che è un inno di bellezza alla normalità, la normalità che abbiamo perduto in quest'ultimo anno. Ci puoi raccontare com'è nata l'idea di questo singolo? Come ti è venuto proprio da scrivere così sulla pandemia alla fine? Sì, diciamo più che altro sul contesto sociale che stiamo vivendo. Quindi con molta semplicità ho cercato di affrontare questa situazione raccontando proprio in maniera spontanea, schietta, quello che provo. Quindi sostanzialmente parte un po' tutto dal fatto di comunque a volte sentirsi soli per la mancanza di un riscontro con gli altri, una mancanza di feedback. Per cui ci sono dei momenti che mi chiedo davvero, ma è possibile che, cioè, soltanto io provo queste emozioni, è possibile che non ci sia qualcun altro che come me pensa che, cioè, basta, non se ne può più. Ecco, questo è molto semplice il concetto, no? Certo, chiaramente poi messo in forma canzone assume un valore un po' più poetico, probabilmente. Beh, dal tuo punto di vista, essendo un cantante, ti sarà mancato anche il contatto col pubblico in questo anno? Eh, purtroppo sì, assolutamente, sai, comunque il mio è un mestiere che richiede una controparte, cioè c'è bisogno assolutamente di un pubblico. Cioè, c'è sicuramente anche il contrario, nel senso che secondo me anche il pubblico ha bisogno di artisti, ha bisogno di qualcuno che possa anche a volte trovare le parole per esprimere determinati sentimenti attraverso una canzone. O anche trovare il modo di distrarsi, insomma, di far viaggiare diversamente il proprio cervello. Quindi, sai, c'è sicuramente bisogno dello scambio gli uni degli altri. Sì, assolutamente, che poi è quello che ci è mancato di più in questo anno, potersi abbracciare, toccarsi, scambiarsi, anche i sorrisi. Parlando del video, come immagine, diciamo, in primo piano, tutto il resto è sfondo, diciamo, è un luogo lontano, indistinto, diciamo. Secondo te quanto la nostra vita virtuale ha intaccato la nostra vita reale in questo contesto? Moltissimo, cioè, diciamo che noi abbiamo un po' bisogno del virtuale, no? In questo momento perché chiaramente ci aiuta, è un ausilio, è qualcosa che va a completare, va laddove ci manca, subentra, no? Quindi, non essendoci più la possibilità di incontrarci di persona, almeno, ora c'è, però ci sono stati periodi molto più ristretti e c'è la paura che questi possano ritornare, tra l'altro, quindi si teme che ci si possa ritrovare nuovamente chiusi in casa. Però, benché questi contatti avvengano, però sono sempre più sporadici, sai, non si viaggia molto facilmente, è difficile incontrarci, magari per fare un pranzo, o se si fa, bisogna comunque mantenere un protocollo, le scene ormai non ci sono più, si va a letto alle sette, per dire, però comunque, almeno, sai, a un certo punto ti ritrovi con il telefonino e fai una chat, una video chat con gli amici, questo sta prendendo piedi, è ovvio che, cioè, per me è un surrogato della realtà, quindi al momento ci stiamo accontentando, vabbè, chi si accontenta gode, insomma, ecco. In questi ultimi anni hai partecipato anche a diversi programmi televisivi, che sono state, diciamo, delle esperienze particolari, positive, magari era un contesto diverso nel quale vederti, e inoltre hai vinto anche il premio Lunezia? Diciamo che mi hanno assegnato questa targa come un riconoscimento per il mio lavoro letterario, e quindi come punto di riferimento c'è questa canzone, se adesso te ne vai, che sembra essere stata scritta bene, e quindi, ecco, è un piacere. Quanto è importante che la musica parli al cuore della gente, che esprima qualcosa che possa toccare i cuori? Ma per me è fondamentale la condivisione, e in certo senso anche la semplicità nelle liriche, nel senso che la musica già di per sé comunica molto, moltissimo, involontariamente quasi, non ce ne rendiamo conto, ma a volte siamo investiti da quelle che sono le melodie, le armonie. Perché se pensi alla musica sinfonica, che comunque pur senza parole, però a volte ti devasta, cioè ti lascia proprio, come dire, non capisci quello che succede, perché comunque è talmente potente l'effetto che può avere, ecco, appunto, ascoltare una sinfonia di Beethoven, piuttosto che, insomma, ecco. La parola, in più, va a creare un altro, come dire, un'altra sollecitazione. E questo, secondo me, è un lavoro importante nel senso che si deve sposare, musica e parole si sposano, come è un grande sodalizio, come Mogole Battisti, no? Oppure, se sei un cantautore, a volte è più facile, perché magari le tue stesse parole vengono musicate, o la tua musica assume comunque quel concetto che hai, che puoi raccontare. Credo che comunicare in forma semplice sia un, voglio dire, un punto importante, e poi alla fine, per quanto semplice non lo è, è un lavoro anche quello, è una ricerca, diciamo così, forse a volte anche a togliere, però cercare di trovare il modo di far arrivare il concetto nella maniera più chiara possibile, e in questo modo agganci proprio l'ascoltatore, cioè nel senso che diventa una, si crea un'empatia, ecco, cioè proprio un rapporto importante che la canzone riesce a entrare nel cuore, appunto, come dicevi dell'ascoltatore. Tu sei un cantautore, in questo periodo hai, oltre questa canzone, hai avuto modo di scrivere, o hai avuto un... In tanti cantautori mi dicono che questo periodo non è stato molto produttivo, a parte... assolutamente, non è stato produttivo perché abbiamo bisogno di vivere delle esperienze per poterle raccontare, quindi, sai, si limita un po' tutto e... c'è bisogno anche di viaggiare, di fare il nostro lavoro, di incontrare persone, di... trovarci... sai, che ne so, con la band in autogrill, a cazzeggiare, cioè queste cose che poi ti vengono a mancare, sei solo in casa, sì, vabbè, c'hai i contatti, c'hai gli amici, c'hai tutti a portata di click, ma ti manca tutto, ti manca... cioè, sei come Salgari che deve scrivere La vita di Sandokan, ma non è mai stato in India, cioè, voglio dire, non è stato... magari, ecco, non è così facile per tutti. Quindi, magari in quel caso c'è stata una genialità, il sogno fino a un certo punto ti può venire in conto, ti può aiutare, però poi sei te da solo, col tuo pianoforte, è chiaro che l'ispirazione stenta, i tasti sono quelli, dopo un po', cioè, bisogna cercarla al di fuori, la musica va cercata al di fuori della musica, al di là. Quindi, questa canzone è un singolo che uscirà da solo, non precede un lavoro, diciamo, un EP, un CD. Al momento così, soletto, se ne va. Quindi, se ci saranno novità, sicuramente, cioè, si sapranno, si conosceranno. Ora, diciamo, per il momento, sì, sì, al momento, ecco, le preoccupazioni sono altre, sono le varianti, capito? Anche qui ci saranno delle varianti, chi lo sa, saranno altre canzoni, magari diverse da questa, e chissà che poi un giorno non confluiranno in un album, ovviamente, particolare, eterogeneo, fatto di diversi episodi, magari come fotografie, di momenti ben distinti di questa fase, e la speranza, però, è soprattutto di tornare on stage, di tornare dal vivo e magari poterlo raccontare dal vivo, questo album, eventualmente. Sarebbe la cosa più bella, sarebbe poterlo suonare prima dal vivo e poi raccoglierlo in un qualcosa che somiglia a un disco, diciamo così. Ok, adesso siamo in clima Sanremese, quindi una domanda Sanremese ti tocca. Io ero ragazzina quando tu sei andato al festival, quindi ti guardavo in tv, e hai cambiato il festival in questi anni e a distanza di tanto tempo, perché comunque sono passati più di 20 anni, se ti capitasse parteciperesti di nuovo? Sì, parteciperei alla commissione del festival, mi propongo, sto già cominciando a farlo, per il prossimo festival, il 2022, giusto? Ecco, io voglio essere in commissione, voglio stare lì e controllare come vengono ascoltate tutte le canzoni che vengono mandate e fare una scelta tra le migliori in assoluto, non precludere, non osteggiare, non avere preconcetti sugli artisti, e non necessariamente seguire la moda del momento, voglio dire, dare un po' più valore culturale anche alla musica, non soltanto di intrattenimento, sarebbe molto importante. Sul palco ormai ci sono stato, e sempre più, tu mi hai chiesto come sta cambiando il festival, mi rendo conto che il cantante ha ben poco da dire ormai, la gran parte degli artisti che si esibiscono sono interpreti, ci sono abbastanza costruiti alcuni nei talent, e ci sono pochi, come dire, pochi veri musicisti, probabilmente, e questo credo che svilisca un po', laddove, ok, un tempo c'era Nilla Pizzi, c'era Domenico Mutugno, c'era Lucio Battisti, insomma, ecco, voglio dire, c'è stata un'evoluzione, però, ecco, dove c'è l'interprete puro, che è una grande voce, spettacolare, dove c'è l'innovatore, dove c'è magari, che ne so, il cantautore geniale, quindi, non so come Rino Gaetano, ecco, mi mancano un po' questi elementi, mi sembra che sia un po' tutto costruito a tavolino, e quindi, ovviamente questa cosa un po' mi annoia, poi magari quest'anno c'è la curiosità di vederlo un po' sfigato, senza pubblico, ovviamente, senza, voglio dire, non era necessario, secondo me, a questo punto farlo, ecco, tutto sommato, possiamo vivere anche senza Sanremo, io credo, in una situazione come questa, ci sono tante cose che ci sono importanti, che ci sono venute a mancare, Sanremo non mi sembra da quelle più fondamentali, o comunque di prima necessità, quindi ecco, magari dare più spazio alla musica, e anche più dignità agli artisti che non lavorano da quasi due anni, e con loro tutti quanti e gli addetti ai lavori che stanno in una situazione oltre che precaria ormai, quindi quasi mi sembra anche un po' un, non lo so, poi vedremo, vedremo, saremo a vedere, io spero che se ne rendano conto e che magari queste cose che sto dicendo invece vengano tenute in considerazione e che almeno ci sia un riconoscimento per insomma tutte quelle persone che non possono partecipare al Festival di Sanremo, e sono molte di più della piccola elite che in questo momento voglio dire è abbastanza ridicola. Sì, ho capito che forse tu non vedi tanto la italiana nel Festival, adesso è un po' spostato sugli artisti protagonisti diciamo più che sulla canzone in sé, giusto? Sì, poi le canzoni le ascolteremo, ecco, comunque un po' di curiosità c'è sempre, no? in ogni caso è un momento in cui si aprono i battenti, si fa uscire qualcosa di nuovo, magari saranno quelle canzoni che per i successivi due mesi, due mesi e mezzo verranno abbastanza scordate, ascoltate, scusa l'apsus freudiano e poi scordate. Anche perché forse è un po' anacronistico tenere adesso come adesso segreto una canzone da far uscire solo per il festival, infatti alla fine c'è qualche spoiler, c'è sempre. Ma sì, è assolutamente anacronistico, parliamo di una manifestazione che comincia a diventare insomma ad avere i suoi anni e sostanzialmente si gioca un po' sul momento, l'esplodio una canzone, poi funziona anche un po' come una sorta di scommessa, è un gioco come tale va preso, ecco perché comunque che se ne parli va bene, tutto quanto, è una grande vetrina per la musica italiana, è uno spettacolo televisivo di intrattenimento però voglio dire secondo me in questo momento bisognerebbe anche riconsiderare un po' la necessità della della cultura che insomma forse in Italia sta un po' vacillando. In tanti dicono che comunque si fa perché così anche chi non stava lavorando potrà in qualche modo beneficiare di questa ripartenza anche se per pochissimi anni. alla fine non è che parliamo di una punta la punta dell'iceberg l'Italia è fatta di tantissimi professionisti e non parlo degli artisti ma ti parlo perché io fortunatamente in questo momento faccio altre cose faccio le mie cose ho il mio lavoro la mia carriera comunque ho un pubblico che mi sostiene e vado avanti però c'è c'è un mondo di musicisti cantanti tecnici che non lavorano a dispetto di quei quattro cinquecento forse meno non lo so quanti saranno centinaio grossomodo insomma questi che costruiscono la manifestazione bisogna rendersi conto che sono privilegiati e estremamente anche a volte un po' fortuna nella loro anche un po' arroganti nella loro fortuna perché non si rendono conto che c'è veramente un mondo di persone che sta a casa e che non ha lavoro e che non condivide niente con questa elite non ha la possibilità di cioè voglio dire dovrebbero fare un Sanremo ok lo facciamo però comunque non guadagna niente nessuno e non speculiamo gli sponsor eccetera eccetera e tutto quello che 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 otteniamo lo suddividiamo per tutta l'intera categoria anche per quelli che stanno a casa che non lavorano ho capito non parlo capito che voglio che voglio dire cioè se parliamo di necessità se parliamo di di grandi necessità in questo momento non è necessario il festival della canzone italiana è fatto in questo modo le necessità sono ben altre e comunque sia cioè vengono non vengono prese in considerazione perché sembra che tutti quanti abbiano bisogno di questo intrattenimento di stare magari che ne so ste cinque serate a casa perché tanto comunque probabilmente non potremo neanche uscire ma ma non lo so cioè vado su su Netflix capito e guardo una serie una serie di serie variamo di quando si potrà tornare a fare i live tu come lo penseresti dato che stavi dicendo che magari preferiresti iniziare con un live e poi far succedere un un cd come te lo immagini il ritorno alla normalità sul palco beh me lo immagino un po' me lo immagino meraviglioso ovviamente perché nell'immaginazione cerco di vedere le cose nella maniera più bella però me lo immagino anche molto difficile perché sai non credo che da un momento all'altro si sblocchi tutto sicuramente anche il pubblico la gente avrà una certa diffidenza nel tornare alla normalità sai siamo tutti un po' timorosi arriva il vaccino e arrivano le varianti i vaccini per le varianti poi ci saranno le varianti delle varianti ci saranno i vaccini capisci cioè è tutto un capito mi sembra che qui veramente la cosa si sta dilungando tempi biblici fra un po' arriveranno anche pioveranno le lane dal cielo che altro le locuste che ci manca capito cioè sembra tutto un po' non so la fantascienza in confronto è meno fantastica meno immaginifica non lo so vabbè dai senti basta con le polemiche perché però io ci metto sempre un sacco di ironia non so se traspare però ecco c'è grande rispetto ovviamente per tutto per tutti soprattutto bisogna prendere le dovute precauzioni in ogni momento perché secondo me al di là di tutte le informazioni che ci danno sta a noi poi dopo cercare di comunque fare una vita quanto più sana possibile avere rispetto per gli altri soprattutto anche per chi purtroppo magari sta male in questo periodo ecco io voglio dire una cosa che ammalarsi non è un crimine non è una colpa e quindi se può succedere che dobbiamo fare non non c'è dato di capire finora quale sia l'entità quale sia il problema che cosa è successo non lo sappiamo adeguiamoci cioè adeguiamo e speriamo di tornare presso sopra il palco per quanto riguarda i musicisti e sotto il palco per chi apprezza e dietro il palco per quanto riguarda le migliaia di tecnici maestranze che insomma assolutamente sicuramente fanno un lavoro e necessitano di di vivere dignitosamente come come tutti anche perché essendo un lavoro abbastanza precario ovviamente in tanti sono rimasti come dicevi tu senza lavoro e senza tutele assolutamente non sarebbe un lavoro precario se venisse come dire trattato e riconosciuto in quanto tale perché anche il lavoro di un cantante è un lavoro precario perché comunque in questa situazione ma come in tante altre siamo stati la cultura è stata veramente l'ultima delle delle dell'ultimo dei pensieri non capisci possiamo benissimo vivere senza cultura possiamo benissimo vivere senza musica senza canzoni senza libri senza teatro senza cinema capito? a quanto pare ma non senza Sanremo chissà è una vita un po' più triste senza tutte queste cose va benissimo dai grazie mille è stato un piacere grazie da parte della nostra testata di Tied Music speriamo di vederci presto magari sotto il palco certo io ho la chitarra sì dai ti aspetto grazie ciao 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 grazie grazie a tutti